Che cosa succederà al prezzo degli immobili nel 2024? Come comprare casa nel 2024? Ce l'avete chiesto in diversi e quindi eccolo qua. Un bel video in cui approfondiremo la situazione del mercato immobiliare, aspettative per prezzi e compravendite. E finalmente visto che parliamo di immobili a sponsorizzare questo video non saranno i poteri forti per una volta tanto ma sarà un vero sponsor la startup innovativa per la ricerca di immobili all'asta ma approfondiremo tutti i dettagli più tardi nel video. Partiamo da come si è chiuso il 2023 dal punto di vista delle compravendite, dei prezzi eccetera. Il crollo del mercato immobiliare che Pecorari sta profetizzando ormai da due anni. Come mai non si è verificato? L'aspetto interessante di questi commenti è che c'è chi vede previsioni dove non ci sono previsioni nel senso che su questo canale sfido a trovare delle previsioni su quello che succederà nel futuro. Spesso ci sono degli scenari che vengono disegnati ma io non ho la sfera di cristallo. Rimango un analista finanziario con diversi master e ore di studio individuale su questi temi. Rimango un investitore immobiliare con la mia società Vendaus facciamo acquisto ristrutturazione e rivendita di immobili su Modena, Reggio e Bologna. Ho anche una società di consulenza finanziaria e di formazione quindi sono sul pezzo per quanto riguarda il tema degli investimenti che di fatto è il mio lavoro ma non ho la sfera di cristallo e non penso che serva neanche averla per essere un investitore profittevole o un imprenditore immobiliare profittevole. Quindi attenzione a non voler trovare delle previsioni in un video in cui non ci sono previsioni soprattutto come approfondiremo in questo video in un settore come quello immobiliare che ha una profonda inefficienza cioè che è il contrario di un mercato come il mercato azionario americano che invece ha un mercato detto efficiente. Capiremo meglio tra poco cosa significa. Quindi come si è chiuso il 2023? Il 2023 si è chiuso con un calo di circa il 12,5% dal punto di vista delle compravendite conseguenza di un discreto crollo dei mutui. Meno 29% di mutui erogati nell'anno che hanno quindi portato ad una maggiore difficoltà di acquisto di un immobile da parte dei compratori però c'è molta gente che è riuscita a comprare comunque un immobile perché aveva della liquidità sui conti correnti o in generale non aveva necessità di farsi finanziare. Quindi quello che emerge è che il 2023 ha messo a dura prova il ceto medio cioè fondamentalmente chi compra casa con un finanziamento e le compravendite non sono crollate proprio perché a comprare sono andate persone che invece la disponibilità finanziare per poter fare l'acquisto l'avevano tutta pronta. Questo è quello che spiega la differenza tra il crollo dei mutui e il crollo delle compravendite che non è identico. Cosa è successo ai prezzi degli immobili nel 2023? Potremmo dire più o meno stabili con variazioni che vanno da un meno 1,3% a Cagliari a una crescita dell'1,3% a Milano. Diciamo che su una media nazionale più o meno potremmo dire che non ha senso fare media a livello nazionale lo capiremo tra poco però un dato dobbiamo averlo come riferimento più o meno pari. Il problema relativo all'immobiliare nel 2023 lo spiega bene Nomisman abbiamo parlato in varie occasioni su questo canale è l'improvvisa carenza di ossigeno del mercato immobiliare dovuta alla mancata indicizzazione dei redditi quindi l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e alle accresciute difficoltà di accesso al credito derivanti dall'impennata del costo del denaro. Se quindi un numero crescente di persone non riesce ad accedere a un finanziamento cresce la domanda di affitto e di conseguenza nel 2023 abbiamo visto un aumento dei canoni di locazione quindi è costato di più andare in affitto con incrementi che sono arrivati fino al 5 per cento a Bologna Milano Firenze Torino tra il 3 e il 4 per cento di aumenti. Penso che sia interessante per chi opera nel settore immobiliare o chi è interessato all'evoluzione dei prezzi avere un'idea di quante transazioni ci sono in Italia cioè quante compravendite ci sono. Il 2022 è stato un anno record con 780.000 compravendite circa 700 abbondanti anche nel 2021 ma se guardiamo l'era pre covid ci muovevamo attorno alle 600.000 e vedremo tra poco come si è chiuso il 2023 siamo più o meno a 650.000 quindi sotto al 2021 sotto al 2022 ma sopra il 2019. Perché è importante approfondire il numero di compravendite? Perché dobbiamo capire il fenomeno che anticipavo nella prima parte del video cioè che il mercato immobiliare non è il mercato finanziario. Il mercato finanziario quando si comprano e si vendono dei titoli è quindi un mercato estremamente liquido vuol dire che se io voglio vendere un'azione Ferrari ci sarà sempre un compratore e un venditore è un mercato profondamente liquido ma questo non è vero nel settore immobiliare perché? Perché ogni immobile è differente invece un'azione Ferrari è uguale ad un'altra azione Ferrari questo già rende il mercato finanziario più liquido per definizione perché si scambia più cose identiche no? Il mercato immobiliare invece devi trovare l'immobile con determinate caratteristiche che sono apprezzate dal compratore. Ma a questo si aggiunge che è un mercato che ha molti meno scambi vuol dire che se prendiamo Modena 180.000 abitanti più o meno si fanno 2300-2500 rogiti all'anno. Sto andando a memoria ma direi che più o meno ci siano 70.000 immobili a Modena se se ne scambiano 2500 all'anno vuol dire che più o meno è il 3,5% degli immobili che vengono scambiati a Modena ogni anno. Puoi capire che quindi è un mercato in cui ci sono poche compravendite in relazione a un patrimonio immobiliare che rimane di proprietà dei proprietari che in un determinato anno non lo vogliono comprare o vendere. In altre parole poche compravendite e quindi un mercato contraddistinto da pochi scambi fa sì che le compravendite possano essere molto differenti le une dalle altre e di conseguenza è difficile definire un prezzo. Ti faccio un esempio definire un prezzo dipende da chi stai comprando. Ci sono momenti in cui ci sono molte compravendite ci sono tanti compratori quindi per un determinato immobile e la differenza tra l'offerta migliore e l'offerta peggiore è molto contenuta perché appunto c'è tanta disponibilità di offerte per l'immobile che vuoi vendere. Lo stesso non si può dire quando le compravendite sono meno perché magari tu hai un immobile da vendere ma non arrivano tre offerte te ne arriva una e quindi in quel caso lì ci può essere una forte differenza tra il prezzo richiesto dal venditore e il prezzo disposto a pagare dal compratore. Questo è per farti capire che in un mercato inefficiente ed è più inefficiente meno compravendite ci sono è anche difficile definire delle linee tendenziali perché magari in un quartiere a Modena ad esempio vengono fatti non lo so 20 rogiti in un anno come fai a definire un prezzo medio quando ci sono 20 rogiti di immobili magari con dimensioni diverse con finiture interne diverse uno che è stato ristrutturato due anni fa e uno 30 anni fa è molto difficile definire dei prezzi medi questo per farti capire che è impossibile fare delle previsioni è molto difficile fare delle previsioni poi siamo qui ne parliamo e cerchiamo di avere delle aspettative ma per via del tipo di mercato che stiamo analizzando è quasi impossibile beccarci se prendiamo ad esempio l'appartamento di via mascagna Modena l'abbiamo comprato più o meno a marzo e l'abbiamo venduta a dicembre ed è stata un'ottima operazione è stato acquistato a 155 mila euro il proprietario aveva rinunciato a 170 mila euro di offerta tre mesi prima il problema è che nel 2023 all'inizio dell'anno c'erano poche compravendite lui per sue ragioni doveva vendere noi potevamo permetterci di acquistare a 150 mila euro risultato lui che doveva vendere ha venduto altri compratori magari con situazioni finanziarie differenti non sono in questa situazione magari potevano tenersi l'immobile scavallare il 2023 che è stato un anno difficile e quello stesso immobile oggi venire venduto magari ad un prezzo più alto nel 2024 perché ci sono più compratori il mercato immobiliare è così oltre ad essere estremamente specifico relativamente all'immobile di cui stiamo parlando è estremamente specifico dal punto di vista delle condizioni di chi vende perché potrebbe avere bisogno dei soldi per sue ragioni o potrebbe non averne bisogno ed è anche estremamente specifico dalle condizioni del compratore perché il compratore può essere più in difficoltà a farsi finanziare quando i tassi sono al 4 e mezzo per cento come quelli della bce adesso o magari essere molto più facilmente finanziabile quando i tassi sono più bassi tutti questi ragionamenti li metteremo poi insieme alla fine del video in cui capiremo come comprare casa ok al di là delle proiezioni di mercato che come abbiamo visto le facciamo cerchiamo di farci delle aspettative ma è dannatamente difficile riuscire a capire cosa succederà a questo punto viene da chiedersi cosa aspettarsi per il 2024 insomma più o meno compravendite prezzi cosa succederà bene consapevoli delle premesse che abbiamo definito precedentemente vediamo qualche articolo di idealista immobiliare punto it eccetera come abbiamo visto nel 2023 si è esaurita la spinta immobiliare post pandemia calo delle compravendite nel 2023 secondo il gruppo gabetti l'andamento delle compravendite conferma le aspettative degli operatori e mette in evidenza il momento attendista delle famiglie per l'acquisto delle abitazioni attendista di cosa del calo dei tassi di interesse fondamentalmente che guarda caso si sta verificando l'abbiamo già commentato nell'ultimo video in cui approfondivamo i tassi di interesse e l'evoluzione dei tassi a breve della bce che però sono già stati scontati dai mercati e sulla parte lunga della curva è un concetto un po' complesso se hai competenze finanziarie lo capirai immediatamente altrimenti fai un atto di fede i mutui a 20 30 anni stanno già calando perché il mercato anticipa quella che sarà la riduzione dei tassi di interesse che verosimilmente dovrebbe arrivare in estate per la bce quindi primo dietro front dei tassi per i mutui sulla casa dopo due anni quindi rallentamento dell'inflazione è possibile calo dei tassi di interesse da parte della bce in estate ma comunque si vede già una riduzione degli irsa 20 30 anni quindi di quello che è il costo di un mutuo a tasso fisso se lo vai a fare oggi rispetto ad un anno fa bene questo suggerisce che il mercato residenziale potrebbe manifestare segnali di ripresa nella seconda metà del 2024 tra l'altro questo fenomeno viene confermato da tecnocasa udine centro nord ti ringrazio per questo messaggio che conferma che dall'inizio dell'anno c'è una spinta positiva da parte degli acquirenti proprio dovuti ai tassi più bassi seppur leggermente ma c'è anche un tema di psicologia no quando si parla di immobili ok c'è un contesto un po più favorevole rispetto a un anno fa e posso essere meno attendista questo è quello che si sta notando a livello di mercati e se sei un agente immobiliare confermaci o meno quello che sta dicendo tecnocasa udine centro nord in visita più di qualcuno ci ha detto che era fermo con la ricerca e questo gli ha fatti riprendere con le visite a cosa si sta riferendo proprio alla riduzione dei tassi di interesse su un ventennale o un trentennale quindi speriamo tenga questo trend teoricamente dovrebbe tenere a meno che non ci siano degli shock inflattivi di cui abbiamo parlato nell'ultimo video in cui commentavamo le politiche della BCE e quindi potrebbe uno shock inflattivo potrebbe portare ad un ulteriore posticiparsi della riduzione dei tassi di interesse quindi un impatto su gli IRS a 20 e 30 anni se questo non si verificherà e oggi sembra poco probabile questo leggero vento positivo per l'immobiliare che si respira a gennaio 2024 potrebbe durare quindi per il 2024 si continua a vedere un rallentamento fisiologico e già largamente scontato nel 2023 no il 2021 e il 2022 sono stati due anni di forte crescita performance inaspettate vengono definite dal presidente di fima santino taverna ed era inevitabile attendersi una fase di assestamento questa penso sia la parola chiave fase di assestamento il 2023 si chiuderà più o meno come dicevamo prima a 680 mila transazioni il 2024 si stima che potrebbe scendere ulteriormente a 650 mila transazioni ma se queste stime fossero vere saremmo comunque superiori al 2019 2018 no quelli sono stati anni in cui eravamo ampiamente sotto le 600 mila transazioni hai mai sentito parlare degli etf sono dei particolarissimi fondi comuni di investimento hanno costi contenuti sono trasparenti sono di facile comprensione insomma hanno tutto quello che potresti desiderare da un investimento c'è un solo problema la banca non te li propone e non te li propone perché non ci guadagna niente a farlo per questa ragione abbiamo deciso di organizzare un evento per permetterti di conoscere questo particolare tipo di strumento che alla base dei portafogli che eroghiamo ai nostri clienti consulenza informazione l'evento si chiama etf revolution è totalmente gratuito e si terrà mercoledì 7 febbraio alle ore 21 trovi il link per iscriverti in descrizione ti aspetto ciao ma lo so cosa stai pensando sì ma i prezzi cosa succederà i prezzi i prezzi potrebbero salire fino al 2 per cento però attenzione di cosa stiamo parlando di prezzi nominali reali cioè sono prezzi che compenseranno l'inflazione purtroppo secondo nomi ma no i prezzi degli immobili residenziali aumenteranno nei prossimi anni quindi a livello nominale ma in termini reali cioè al netto dell'inflazione no almeno non tutti e non tutti recupereranno quanto è stato bruciato dall'inflazione e se vuoi approfondire scaricate il pdf alla fine del video è totalmente gratuito e vedi l'evoluzione dei prezzi in termini reali quindi al netto dell'inflazione non possiamo dire quindi di essere di fronte ad un tracollo del mercato immobiliare i numeri testimoniano un mercato in salute i tassi di interesse ancora elevati ma in calo per quanto riguarda i mutui a 20 30 anni e per i quali si prevede un miglioramento nel 2024 unitamente alla prudenza delle banche sono elementi che rendono l'accesso del credito ancora difficoltoso soprattutto per chi ha necessità di ricorrere a finanziamenti importanti se fai dei finanziamenti contenuti ovviamente è più semplice e non ci sono particolari difficoltà ad accedere al credito chi è che va in particolare difficoltà in questo contesto chi fa dei mutui oltre l'80 per cento del valore dell'immobile il famoso mutuo al 100 per cento che come piano finanziario strasconsigliamo a tutti cioè un mutuo al 100 per cento vuol dire che potenzialmente non ti puoi permettere quell'immobile oggi potenzialmente non te lo danno neanche e non sei finanziabile dal sistema bancario quindi queste sono valutazioni generali ma adesso dobbiamo calare queste valutazioni sul tipo di immobile perché altrimenti non riusciamo ad avere un'idea di quello che potrebbe succedere perché immobili diversi vedranno evoluzioni differenti di prezzo anche infatti fabiana responsabile ufficio studi di tecnocasa dice che ci potrebbero essere riduzioni di prezzi in relazione a particolari tipologie di immobili quelle più popolari o per le metrature più ampie proprio per il perdurare di difficoltà nella finanziabilità ad esempio le tipologie più popolari se vengono acquistate con mutui al cento per cento da una certa categoria di persone se questi mutui non sono più accessibili allora è più difficile acquistare quell'immobile oppure immobili di ampie metrature magari chi li compra anche la disponibilità però il mutuo è talmente grande perché l'immobile è grande e quindi il mutuo è importante e con questi tassi risulta magari più difficilmente finanziabile i tagli piccoli che non richiedono capitali importanti non dovrebbero subire ribassi il classico bilocale a modena quantomeno che è il mercato che conosco gli agenti immobiliari continuano a dire che è un assegno circolare il taglio 100 150 mila euro altre tipologie di immobili che non dovrebbero subire il ribasso quali sono sono immobili signorili di fascia top o quelli di nuova costruzione con vend house ad esempio abbiamo appena venduto cioè ieri il 29 gennaio il primo immobile in un grosso progetto che stiamo facendo a modena e questo è un progetto su cui siamo dietro da un anno abbondante stiamo iniziando i lavori adesso però di nuovo in quella zona non ce n'è sul mercato quindi gli agenti immobiliari appena abbiamo detto l'abbiamo acquisito stiamo iniziando lavori siamo pronti per metterlo in vendita l'hanno bruciato l'hanno venduto in un mese non ci saranno impatti negativi e troviamo conferma di questa cosa sulla nostra pelle proprio per quanto riguarda i mobili di nuova costruzione ristrutturati signorili o di fascia alta in ottimo stato ed efficienti per i quali il pubblico è disposto a spendere qualcosa in più ovviamente vale il fenomeno contrario i mobili degli anni 50 che non hanno mai visto una ristrutturazione che vanno su una fascia di popolazione che oggi fa fatica ad accedere al credito quelli vedranno una riduzione dei prezzi perché non sono particolarmente appetibili sul mercato non c'è troppa gente che li cerca e chi li cerca difficoltà a farsi finanziare quindi il 2024 dovrebbe essere un pochino peggio del 2023 non esageratamente peggio un pochino più rallentato ma comunque siamo ampiamente sopra i valori del 2019 18 17 eccetera quindi sopra le medie storiche di lungo periodo fatta eccezione per il 21 e 22 che sono stati due anni straordinari a questo punto penso ti starei chiedendo ma ok ma se io voglio comprare casa nel 2024 cosa devo fare innanzitutto abbiamo capito che non dovrebbe esserci un tracollo che quello che fa veramente la differenza sono le condizioni di acquisto tu è come compratore quanto sei forte nella compravendita quanto sei forte nella negoziazione quindi ad esempio quanto sei finanziabile e dall'altra parte quanta necessità di vendere a il venditore in questo video link in descrizione abbiamo commentato di come c'è un'intera generazione i famosi baby boomers che non ha necessità di vendere quindi questo è un fenomeno che nel lungo periodo continuerà a manifestarsi e a far sì che ci siano pochi immobili sul mercato però abbiamo capito l'importanza di comprare nel migliore dei modi soprattutto quando si parla di finanze personali ok perché tu non compri immobili come facciamo noi con vend house che tra sei mesi verosimilmente abbiamo ristrutturato e rimesso l'immobile sul mercato e lo facciamo magari anche senza finanziamento perché abbiamo vari investitori tu devi acquistarlo con le tue finanze con la tua capacità di farti finanziare quindi l'acquistare bene un immobile è particolarmente importante e per bene intendo in un modo che sia coerente con la tua situazione finanziaria di cui parleremo tra poco sicuramente il punto di partenza è trovare un immobile che abbia il prezzo giusto e una delle ragioni per cui abbiamo deciso di scegliere che asta come sponsor di questo video è proprio perché è uno strumento per trovare occasioni sul mercato immobiliare infatti che asta è una startup innovativa nata nel 2023 da investitori immobiliari che operavano nel settore già dal 95 nata con l'obiettivo di scovare opportunità nel mercato immobiliare proprio da parte dei soci fondatori che in prima persona volevano trovare immobili a prezzi scontati quindi è così che è nato che asta.it uno strumento essenziale per trovare immobili all'asta in tutta italia un unico portale che consolida quella miriade di siti che riportano le aste dei tribunali che per un investitore immobiliare o per una persona che vuole comprare la propria prima casa all'asta costano una marea di tempo proprio di navigazione perché sono disorganizzati perché le informazioni sono frammentate non è possibile filtrare le informazioni è molto difficile fare una ricerca in modo efficace che asta.it risolve questo problema perché la ricerca è semplice e intuitiva e in particolare puoi selezionare tra tutti gli immobili riportati sul portale tutti gli immobili all'asta in italia in questo momento utilizzando i tuoi criteri di ricerca e questo comporta un notevole risparmio di tempo rendendo che asta.it uno strumento essenziale sia per l'investitore come sottoscritto che cerca immobili da ristrutturare da rivendere sia per il privato che sta cercando di comprare la prima casa o di fare un suo investimento immobiliare abbonandoti al servizio hai anche la possibilità di ricevere delle notifiche quando un nuovo immobile viene messo all'asta nelle province che hai selezionato e questo è un risparmio di tempo incredibile perché è proprio una notifica che ti arriva via mail quindi un servizio che ti permette di trovare l'immobile giusto al prezzo adatto alle tue tasche ad un costo che oggettivamente è irrisorio 60 euro all'anno che se uno ci pensa se ti risparmiasse anche solo due ore del tuo tempo a 30 euro all'ora te lo saresti ripagato quindi grazie a che asta.it che ha sponsorizzato questo video se vuoi maggiori informazioni clicca il link che trovi in descrizione o abbonati direttamente ma quindi cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi cinque anni io vedo un crollo ma non so capire quando il problema è che se vedi un crollo ma non sai spiegarti perché ci sarà un crollo non è detto che il crollo si verificherà tutti vorremmo un crollo per poter comprare a sconto ma se non abbiamo strumenti come che asta.it o non abbiamo grande capacità di scansionare il mercato alla ricerca di opportunità non è detto che il crollo si verifichi se l'andamento generale del mercato è quello che abbiamo descritto nella prima parte del video il vero tema quindi non è capire cosa farà il mercato immobiliare che più o meno un'idea ce la siamo fatta diciamo che per semplificare sarà più o meno uguale a 2023 forse il leggero miglioramento nella seconda metà dell'anno il vero tema è capire se tu puoi permetterti di acquistare una casa e quale prezzo puoi permetterti di spendere per acquistare una casa infatti gab mi chiede giorgio sono quasi due anni che sto aspettando un crollo dei prezzi degli immobili a modena per colpa dei tassi di interesse e del periodo incerto ma qui stanno continuando ad aumentare l'abbiamo visto continuano ad aumentare in termini reali poi non tengono il prezzo al netto dell'inflazione ma questo è un altro discorso ma in termini reali continuano ad aumentare e aumenteranno sempre in termini nominali è in termini reali che invece vediamo un declino da diverso tempo in quasi tutte le parti d'italia che ne pensi ormai non devo più sperarci bisogna acquistare prima che aumentino ancora il punto è proprio questo i prezzi in termini nominali cioè senza considerare l'inflazione continueranno ad aumentare e saliranno sempre cioè se ci pensi come sono saliti i prezzi di qualunque altro bene no da una pizza o una birra fuori con gli amici eccetera sono prezzi che sono aumentati ma non torneremo più ai prezzi di prima perché l'inflazione può ridursi può andare a zero ma quando c'è deflazione è un grosso problema per l'economia e l'abbiamo visto nel decennio 2010 2020 le banche centrali fanno di tutto per evitare la deflazione che è l'inflazione negativa cioè quando i prezzi scendono e lo fanno perché vuol dire che si inchioda l'economia se c'è deflazione vuol dire che le persone tenderebbero a posticipare qualunque tipo di acquisto perché magari tra un anno i prezzi sono più bassi e di fatto l'economia si pianta quindi un po' di inflazione ci deve essere sempre questo fa sì che i prezzi non caleranno mai tra poco capiremo dove calano perché c'è una parte d'italia in cui prezzi caleranno ma nel centro nord possiamo dire che i prezzi non caleranno mai in termini nominali magari caleranno in termini reali nel senso che non terranno il passo dell'inflazione quindi vale il discorso che se devi comprare la casa che di fatto è un bene durevole e non è un investimento prima la compri meglio è ma attenzione prima la compri bene non prima la compri con un mutuo al 110 per cento comprarla bene vuol dire che la devi comprare in modo coerente con la tua situazione finanziaria senza sovraesporti facile a dirsi difficile a farsi nel senso che la maggior parte delle persone compra un immobile che non può permettersi di comprare perché c'è una componente emozionale ed è molto difficile essere razionali quando acquisti un immobile ogni 20 anni però questa è l'unica condizione per poterlo fare anche in questo contesto perché non possiamo sapere se e quando scenderanno i prezzi consapevoli del fatto che i prezzi tendono sempre ad aumentare a questo si aggiunge che dipende dove la compri come dice polim cr ho visto ristrutturare abitazioni di famiglia magari ereditate in comuni da mille duemila abitanti lontano da tutto in paesi con popolazione di sole anziani perché i giovani non trovano lavoro lontano e quindi sono stati a casa loro e magari hanno fatto una ristrutturazione da 1500 euro al metro in una zona che non ha mercato e a mio parere è un errore assoluto e mi sento di condividerla assolutamente questa considerazione meglio un trilocale in un paese grande con servizi e magari aziende dove lavorare che una casa anche grande e ristrutturata in paesi sperduti dove per lavorare serve fare il pendolare e magari a 50 chilometri di distanza purtroppo è una realtà molti piccoli paesi stanno morendo si stanno spopolando e ciò comporta un crollo del valore reale dell'immobile in certe zone d'italia io ho la fortuna di essere nato cresciuto a modena che con tutti i problemi dell'italia è una zona che comunque ha immigrazione dal punto di vista del lavoro c'è molto lavoro è una zona industrializzata bella quando vuoi trovare da lavorare meno bella quando apri le finestre e apprezzi lo smog della pianura padana però è indiscutibile che questa è una città che è molto attrattiva per il mercato del lavoro e di conseguenza il mercato immobiliare è piuttosto florido o potremmo dire che è molto meglio di altre zone d'italia quindi se stai cercando di comprare casa nel 2024 oltre a capire quanto questo acquisto può mettere in difficoltà la tua situazione finanziaria quali sono i rischi associati all'acquisto relativamente alla tua situazione finanziaria deve approfondire anche in che zona vai a comprare l'immobile perché davvero stiamo assistendo a dei fenomeni incredibili in basilicata meno 6,4 per cento di residenti dal 2011 la popolazione è in calo in 112 comuni e c'è una vera emergenza demografica qual è la conseguenza che in basilicata una casa su tre è disabitata cresce lo spopolamento e se ti devi vincolare per vent'anni e magari devi vincolare un terzo del tuo reddito a pagare un mutuo per vent'anni devi essere consapevole di dove lo stai comprando e quali sono le aspettative relativamente al valore di questo immobile quando avrai finito di pagarlo e questo al di là dell'evoluzione del mercato immobiliare medio in italia al di là dell'evoluzione dei tassi queste sono valutazioni che devono essere calate sulla tua situazione finanziaria e sulla zona in cui abiti perché tra 20 anni sarai pronto a scommetterlo fammi capire se accetteresti questa scommessa con me nei commenti ci saranno molte persone che avranno una casa ristrutturata di proprietà in una città fantasma come quella americana